Non lo immaginavo veramente. Uno è di almeno 50 anni dopo. Io non sono un esperto come lui, infatti quando l'ho visto. Sì, tu mostri. Ma chi ti ha portato su due cose? Cioè uno è una mezza crosta e l'altro è una coppia di un Lorenzo Lotto fatta da un pittore che si conosce tra l'altro. Andre Vedetto. Dovrei dirlo, ma è avvantaggio di chi lo dica. No, vabbè, noi siamo in campagna elettorale, quindi non direi Vedetto per carità. E non voglio approfittarsi. Invece sì, i commenti servono, secondo me. Non lo puoi mettere vicino all'opero dell'otto. Voglio dire.